Ci siamo, tutto pronto, partiti i cavalli della sesta ed ultima corsa dall'Ippodromo delle Capannelle. Buona la partenza per tutti, ma il più veloce è Battellic che si porta in vantaggio, subito superato di slancio però al suo interno da Renarouge, altro con il peso basso. In terza troviamo San Morkesilla, precedere sopra Andrusilla, poi Nightcrawler, alle cui spalle gravita anche Alias De Griff, percorsi esterne Tudussac, riconoscibile dalla giubba gialla. Troviamo anche Kaed in mezzo al gruppo che ha in scia in ultima posizione zona d'ombra insieme alla stessa nonna Tirina e Vivimi. Al centro gruppo troviamo anche Feeling Good. Questo è lo schema di gara, quando i cavalli hanno percorso la prima parte della retta e affrontano la curva con in leggero vantaggio Renarouge nei confronti di Battellic, San Morkesilla, poi ancora Nightcrawler, sopra Andrusilla, Alias De Griff, percorsi interne. Troviamo anche Feeling Good a precedere lo stesso Alias De Griff, Vivimi, nonna Tirina, zona d'ombra a completare il quadro. Siamo addirittura ad arrivo, quella in vantaggio è ancora Renarouge che prova ad anticipare lo sforzo, al suo interno si presenta Nightcrawler ma ancora più cattivo e Feeling Good. Poi all'interno troviamo Vivimi, Battellic all'esterno di tutti insieme a San Morkesilla, Alias De Griff, Kaed, Tudussac e zona d'ombra. Tutto l'ampio ventaglione così composto con Sopran Drusilla che è in leggero vantaggio nei confronti di Kaed che si avvicina in maniera minacciosa. All'interno ha trovato anche un buon varco Sopran Malev, ma Sopran Drusilla adesso è attaccata da Kaed. Kaed che ci prova al suo esterno, Kaed contro Sopran Drusilla, questi due che lottano fin sul traguardo. È un bel testa a testa, forse Sopran Drusilla ha mantenuto qualcosa, ma dobbiamo rivedere lo stretto per capire meglio cosa sia accaduto. Ma alla fine i due sono arrivati simultaneamente sul traguardo, Sopran Drusilla all'interno di Kaed, poi terzo sicuramente finito bene Alias De Griff, ma qui ci interessa chi abbia messo il muso davanti a chi. Qui è davanti ancora Sopran Drusilla, Kaed che lo insidia, andiamo all'ultimo tempo di galoppo. Eh sì, io direi Sopran Drusilla che vince 5 dello schieramento a segno, al secondo posto 6 Kaed per il terzo Alias De Griff ancora, su Battellic. Quindi numericamente 5, 6, 7, praticamente si è risolto nella fascia centrale, vince Sopran Drusilla che ha ottenuto così la vittoria numero 6 in carriera, si tratta di una figlia di duel. Grazie. 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 Grazie.